Sono iniziate in fiera nel pomeriggio di martedì le vaccinazioni per il personale scolastico. Dopo gli appuntamenti fissati nei giorni scorsi, per lo più durante l'ultimo weekend, oggi insegnanti, personale ATA, operatori scolastici e tutte le altre figure della scuola hanno iniziato a sottoporsi alla prima somministrazione del vaccino AstraZeneca. Ad aiutare ad orientarsi fra i padiglioni a svolgere le operazioni di accettazione e controllo sicurezza oggi erano impegnati i volontari della Croce Rossa. Al momento sono rimaste escluse dalle vaccinazioni le figure professionali che lavorano all'interno della scuola ma che sono dipendenti di altre realtà come ad esempio gli operatori delle mense scolastiche. Sono all'incirca 9.000 le persone che in Romagna saranno coinvolti in questa nuova fase della campagna vaccinale. Oltre al personale scolastico questi sono i giorni destinati anche alle forze dell'ordine. A Faenza quasi l'intera totalità degli ambulatori medici utilizzerà la fiera per le vaccinazioni in orario extraambulatoriale. Gli altri medici eseguiranno le vaccinazioni nei rispettivi ambulatori. La problematica maggiore di queste ore però riguarda tutti coloro che per limiti di età non possono sottoporsi alla AstraZeneca. Siamo abbastanza bene, ci siamo presi dei tempi discreti e quindi in montagna non c'è resso come vedete. Faremo oggi 100 vaccinazioni, il mio nucleo di cure primarie che è a Faenza Centro ne farà 300, farà oggi e domani e domani l'altro e un altro nucleo di Faenza vaccinerà per tutta la giornata di domenica. Sono stati questi giorni anche delle prenotazioni, c'è stato qualche problema? No, no, sono prenotati tanti e non credo che saranno sufficienti le dose che ci hanno dato, hanno comunque permesso di fornirne altre ulteriori. C'è il problema di quelle persone che non possono ricevere la AstraZeneca per motivi di età ma che appunto lavorano nella scuola? Proprio adesso è venuta una persona che c'è stato un disguido, avevano detto alle segretari di dirlo ma evidentemente è sfuggito questa cosa qui, ha compiuto i 65 anni, non può fare Zeneca ma deve fare un altro vaccino. Quindi aspetterà quando verrà chiamato come classe di rischio. Quindi dopo diciamo le classi prioritarie della prossima fase? Dopo, credo di sì. Con quei vaccini che ci saranno a disposizione? I vaccini che saranno a disposizione. Come proseguirà nella prossima settimana? Non lo so, non ho la minima idea. Io so le dosi che ci hanno dato, le facciamo tutte e poi staremo a vedere. Al momento sono però già calcolati i richiami, giusto? Spero di sì.